Non ti vedo in faccia io. Ma se vuoi partiamo fra due o tre giorni e mezzo. Dimmi te quando è ora. Ciao a tutti, sono Michele Carnevale di www.viveallecanarie.com In azienda mi occupo di varie cose, tra cui l'assistenza e che è la puttana tomano. Ricordate sempre un cazzo Ricordate sempre Ricordate sempre, sempre Ricordate sempre Oh, non mi viene. Il servizio è sempre totalmente gratuito. Un arrivederci a presto E tua nonna in carriola Il servizio è sempre e totalmente gratuito Un arrivederci a presto E una buona vita Da tua nonna Sua nonna Il servizio è sempre e totalmente gratuito Un saluto a tutti D'amici di www.viveallecanarie.com Ciao Grazie mille Grazie.